...scendevano sui visi di persone normali per persone speciali. Consegnati questo venerdì al centro congressi dell'Una Hotel di Bergamo i premi alla memoria del maresciallo Luigi D'Andrea. Il riconoscimento giunto alla sesta edizione è stato istituito in memoria dell'eroico sotto ufficiale della Polizia di Stato, ucciso per mano criminale nell'adempimento del proprio dovere mentre si attivava in difesa della legalità e delle istituzioni democratiche. I riconoscimenti consegnati davanti ad un nutrito gruppo di autorità hanno voluto significare il gesto eroico prestato da alcuni agenti di polizia che incuranti del rischio corso si sono prestati in interventi di altissimo pericolo per l'incolumità personale. Si è trattato di una ragazza che probabilmente è in preda ai problemi suoi personali e voleva farla finita gettandosi nelle acque del Simeoglio in località d'Arfo Borio Terme. Io libero dal servizio ho assistito al momento in cui questa ragazza si è gettata nel vuoto e unitamente a un pescatore che si trovava nei paraggi ci siamo adoperati a trarla in sicurezza. È una domanda banalissima ma in questi casi è ricorrente. Ha avuto paura? No sinceramente no perché me la cavo a nuotare sinceramente. Poi siamo stati anche fortunati che in quel tratto non è molto impervia la rapida del fiume pertanto siamo riusciti in sicurezza anche per noi a trarla in salvo. A seguito di un incidente stradale c'erano delle persone a terra una delle quali era in arresto cardiaco e ho praticato un massaggio cardiaco a questa persona che si è poi ripresa e fortunatamente oggi è qua che può festeggiare con me questo giorno sfortunato ma dato da un evento sfortunato che però ha avuto questo lieve evento. E cosa rappresenta questo premio? Forse rappresenta il sacrificio di tanti di noi che in questo caso vengono premiati per quello che fanno anche se tutti i giorni poi rischiano anche se non rischiano comunque portano del loro in questo lavoro delle forze dell'ordine in generale.